L'esporto è arrivato dove è arrivato, grazie all'esponso. Questa è una cosa che senza l'esponso non aveva la televisione, non aveva questa intervista, non aveva l'interesse sull'Formula 1. Sono loro che hanno fatto, perché è un esporto molto caro che nessuno in particolare può fare. E per questo io faccio tutto che mi sponso, lo dico, con piacere. E anche loro sono in gamba di fare quello che non piace a noi. Io penso che è una cosa che la televisione non piace molto, si parla troppo di questo, c'è il patrocinatore, non vuoi mostrare, non vuoi fare mai. Il mondo è così e senza loro noi non possiamo fare l'esporto.